Un cordelzo a tutti voi dal vostro amichevole tizio qualunque di quartiere che vi ha fatto attendere solo un mesetto circa per dirvi la sua su Spider-Man Far From Home, ultimo film della fase 3 del Marvel Cinematic Universe, dedicato appunto a Spider-Man, sempre con Tom Holland, Zendaya, anzi Zendaya, come lo si pronuncia dalle altre parti, Jacob Batalon, mi piace molto Jacob Batalon, e entry di questo film Jake Gyllenhaal nel ruolo di misterio. Allora, partiamo un attimo da una cosa che, diciamo, vi farà capire con che soddisfazione sono uscito dalla sala. Io questo film proprio non c'avevo proprio testa, non avevo zero aspettative e pochissima voglia di vederlo. Non perché non mi interessi più Spider-Man, anzi è sempre uno dei personaggi che più amo, ma perché dopo che c'è stata un'apocalisse in Endgame, cosa puoi altro aggiungere? Cioè, Endgame credo sia, non lo so, la sublimazione di tutte le cose nerd che avremmo voluto vedere al cinema, cioè nel senso, ogni volta che spostavamo l'asticella su, ma figurati se fanno un film su Capitano America, ma figurati se fanno un film sui Vendicatori tutti uniti, ma figurati se fanno un film sui Guardiani della Galassia, ma figurati se ci sarà una mega battaglia come nei fumetti dove sono tutti contro tutti, la Madonna incoronata. E mo? E mo? Come cazzo fai tutte le volte, no? E ora, non dico che Spider-Man Far From Home vada a superare quello, no, onestamente no, però è un modo di concludere questa fase, forse anche anticlimatico, ma non è necessariamente un male, ed è un film di passaggio, la chiusura di un'epoca, l'epoca, tra virgolette, segnata dal primo film Marvel Cinematic Universe, Iron Man, con Robert Downey Jr. e Tony Stark, che in Endgame ci ha salutato cordialmente, questo è un film di passaggio per quella che sarà la fase successiva, su cui aspetto un attimo a pronunciarmi perché è uscito veramente poco e non sono convinto che sia tutto lì, ne parleremo più avanti in un'altra sede. Questo Spider-Man, se ci pensate, è uno Spider-Man diverso da tutti quelli che abbiamo visto cinematograficamente e fumettisticamente parlando. Perché? Perché sia nel cinema che nelle varie riproposizioni del canone classico del fumetto, si è sempre seguita, diciamo, quella che era la prassi, l'iter classico del personaggio, cioè un personaggio che, diciamo, è a livello urbano, che difficilmente viene capito o capisce il mondo dei supereroi più grandi, che è sempre agito da solo e che difficilmente è andato a combattere cose tanto più grandi di lui. Questo non si è visto non tanto nei film, ma quanto nei fumetti classici, nel senso, poi dopo andando avanti nella storia, Spider-Man è diventato un vendicatore, ha collaborato con praticamente tutti i supereroi, ha fatto parte delle guerre segrete, insomma, è un supereroi che ha avuto prima un background, diciamo, più terra-terra, e poi è andato a poco a poco a salire, no? L'outsider che cresce. Qua, invece, a esclusione, appunto, di quello che vediamo in Homecoming, in cui vediamo Peter molto, diciamo, neighborhood-based, cioè nel senso, aiuta la vecchietta, tira giù il gatto dall'albero, ferma il lado di biciclette, tranne quella piccola parentesi, è un personaggio che ha saltato tutto quello che era l'iter classico di Spider-Man ed è andato subito al pezzo forte, cioè, praticamente la seconda avventura come Spider-Man, la terza, fai conto, è in un altro pianeta, con i Vendicatori, a combattere Thanos, far parte di una battaglia megagalattica dove ci sono Capitan Marvel, tutti i Vendicatori, sua sorella, sua nonna, tutti. È un personaggio che ha fatto prima, ha bruciato le tappe, per certi versi, ha fatto prima quello che lo Spider-Man classico ha fatto dopo tanti anni, e gli è mancato forse un pochettino il più il terra-terra, no? Questa è, diciamo, una prima analisi che si può fare sulla cosa. L'altra analisi che possiamo fare è che, nonostante gli siano mancate queste basi, tutti gli stilemi e tutti i luoghi comuni tipici di Peter Parker sono presenti. Tutti i luoghi comuni che costruiscono Spider-Man, il fatto di sentirsi non adatto al problema che ci si sta trovando davanti, il fatto di voler vivere una vita normale, ma che il senso di responsabilità, i tuoi impegni, impegni ti obblighino a mettere da parte la vita normale che potrebbe avere un quindicenne e andare a spenzolare per i grattacieli. Qua i grattacieli non ci sono. Inizialmente molti hanno storto il naso sul fatto che Peter non volesse portarsi il costume dietro, non... come si dice, non... non volesse fare Spider-Man, ma volesse farsi tranquillamente la classica gita scolastica che a quell'età si fa. è vero, Peter ha un senso di responsabilità fortissimo, ma è un ragazzino. È un ragazzino, cresciuto in frettissima, che ha vissuto anche, tra le altre cose, il discorso di essere morto per cinque anni, e che dopo tutto questo che gli è arrivato in faccia probabilmente vorrebbe anche vivere un momento tranquillo. Poi non ci riuscirà, perché complice Zemei, complice Nick Fury, si troverà a combattere situazioni supereroistiche. Ma è comprensibile questa volontà del personaggio? Cioè non è totalmente fuori di personaggio, perché poi alla fine comunque lui agisce. semplicemente a volte Peter vorrebbe avere tempo per la sua vita normale, e purtroppo non ce l'ha. Ma questa è una cosa che fa parte dei fumetti. Cioè la capacità, secondo me, di questo film, e comunque di quello che è stato fatto con Spider-Man nell'MCU, è quello di metterlo in situazioni totalmente atipiche e totalmente lontane dal canone classico, ma nonostante questo rendere il personaggio quanto più classico possibile. Zio Ben ancora non si è visto e forse non lo vedremo mai. Non vedremo mai il momento in cui Zio Ben muore. Però questo evento c'è, e a questo evento si aggiunge un altro evento, che è la morte di Tony Stark, che alt, non è la stessa cosa della morte di Zio Ben, Peter non è responsabile, è ok. Però ti trovi di fronte ad essere investito di aspettative più grandi di quelle che pensi di poter, come si dice, sopportare. E il fatto di doversi sentire, sentirsi dire di essere il nuovo Iron Man, quando Iron Man, con tutti i suoi difetti, è, ma ha salvato praticamente l'universo, in compagnia degli altri. Però vabbè, è quello che ci è rimasto, quindi è giusto che venga, tra virgolette, portato in trionfo. È un'aspettativa fortissima per un ragazzino di 15 anni che vorrebbe viversi la sua vita, che si è fatto 5 anni da morto, e si è stato in un altro pianeta. Cioè, e quindi questo mi è piaciuto molto. Zendaya, come MJ, non Mary Jane, MJ. Non Mary Jane, ma tantissimo Mary Jane. Nel senso che, non ci nascondiamo dietro un dito, Mary Jane fisicamente è diversa, Mary Jane ha un vissuto diverso, ha un carattere diverso. Sì, ma Mary Jane, tra tutti i personaggi che hanno praticamente circondato il cast di comprimari di Spider-Man, insomma, Mary Jane è quella tosta. Non è un caso che lei sia diventata la compagna principale di Spider-Man. Gwen è l'amore vissuto con le speranze giovanili, con tutte le timidezze, va bene, però, ce la vogliamo dire, anche prima di morire era una gatta morta. La gatta nera era un po' troppo gatta, nell'altro senso. Mary Jane è quella che sa, sin dall'inizio, che Peter e Spider-Man sono la stessa persona, che non lo dice a nessuno, che nasconde questa sua fragilità, questa sua sentirsi inadeguata con una maschera, che nel fumetto è quella della frivola, della, insomma, della scemetta. Qua nel film è quella, la dura, la cinica, però alla fine è quello il personaggio. È un personaggio che capisce profondamente Peter, che fa finta di non capire il personaggio, ma che poi in realtà sono due vite parallele, citando il titolo di una delle storie più belle sul rapporto tra Peter e Mary Jane. Cioè questa storia classica che vi consiglio di recuperare, in cui praticamente Peter e Mary Jane vivono le loro storie parallelamente e ci si rende conto che per quanto i due personaggi abbiano vissuto situazioni diverse, sono molto simili, siano quasi destinati a stare assieme. Comunque. E mi è piaciuto anche il fatto che si sia un po' rotto anche questo stilema di quanto sia bello svolazzare tra i grattacieli in braccio a Spider-Man. A me quando ho visto la scena in cui appunto Zendaya, Zendaya, volteggia per i grattacieli in braccio a Spidey e deterrorizzata, a me è venuta in mente quella scena del Spider-Man classico di Raimi, in cui vedi Peter, cioè Spider-Man, con il braccio Mary Jane che vanno a rallenti. Lui con la ragnatela tiene da un braccio con il braccio Mary Jane e con l'altro braccio volteggia sulla ragnatela e come fa a lanciare l'altra ragnatela se col braccio tiene Mary Jane? Non lo vedi perché va a rallenti. Dove va... Vabbè, era una cosa bruttissima che avevo già notato all'epoca. però va bene, ci stava nel film allegorico che era lo Spider-Man di Raimi. Cos'altro dire? Zendaya promossa a pieni voti. Promosso anche Jacob Batalon con Angry Rise nel ruolo della coppietta estiva Ned Leeds perché alla fine è Ned Leeds con Betty Brent ed è fighissima la cosa che siano coppia guarda caso proprio loro due che anche nel fumetto sia... cioè nel senso non è che è casuale la cosa, no? Mi è piaciuto il fatto che si fosse ricreata questa coppia nel fumetto anche se poi nel fumetto è una coppia totalmente diversa al di fuori proprio dei personaggi ma proprio come rapporti chi ha letto il fumetto lo sa botte sangue vabbè corna comunque è carina quello che mi è piaciuto in generale anche con Flash che è un Flash diverso da quello del fumetto ma che è anche qui diverso ma che ne mantiene le radici è questa la capacità di questo film o comunque in generale di quello che è stato fatto con Spider-Man nell'MCU cioè quello di proporci qualcosa di totalmente diverso apparentemente da quello che abbiamo visto finora di Spider-Man cioè il classico tutto il classico circondario di comprimari tutte le classiche tematiche le classiche fidanzatine qualcosa di diverso ma che richiama perfettamente quello che è il nucleo classico del del fumetto molti hanno mal sopportato il fatto che fosse tanto come si dice road trip viaggi in Europa con gli amichetti Spider-Man nel fumetto soprattutto da quando Steve Ditko lascia la serie e da la serie a John Romita come chi ha visto Spider-Man la storia sa i disegnatori erano anche cosceneggiatori e visto che Romita veniva dai romance dai fumetti soap opera per capirci aggiunse parecchio queste dinamiche della della ganga di Peter il fatto che comunque si vedesse con gli amici cose così ovvio pochissimo per quello che potevano essere i canoni nostri ma tantissimo per quello che potevano essere i canoni dei fumetti dell'epoca e quindi mi piace anche questa tematica mi piacciono anche i momenti scemi con gli insegnanti quell'insegnante lì quello di colore JB Smoove mi ha fatto morire l'altro insegnante che non mi ricordo il nome ma anche quello mezzo devastato mi ha fatto morire misterio misterio allora molti hanno criticato il fatto che misterio avesse a disposizione una tecnologia del genere anzi partiamo dal principio misterio è un illusionista è l'illusionista per eccellenza è uno che campa di effetti speciali ok nel fumetto è sempre stato così quando sono usciti i primi trailer dove si parlava di multiverso e dove si vedeva misterio che faceva l'eroe adesso tutti quanti mentiranno tutti quanti diranno no io non c'ero cascato però all'epoca tutti si sentivano presi bene dicendo hai visto questo è un misterio diverso hanno introdotto il multiverso minchia vedi che allora è una cosa finita poi quando si è effettivamente rivelato quello che era ovvio per chi conosce il fumetto ovvero che misterio è un ciarlatano ma io lo sapevo ma figurati se ci cascavo che era veramente del multiverso va fregato tutti va fregato tutti e nessuno lo ammette io l'ho detto dall'inizio andatevi a ripescare le storie di instagram io l'ho detto subito guardate che misterio vi piglia per il culo e infatti va pigliato per il culo mi piace molto il fatto che si sia andato a collegare con la tecnologia che stark utilizza in fa intravedere in civil war quella che è stata rinominata rimba mi piace veramente tanto e soprattutto nonostante ci sia lo spiegone in questo film ci sono due spiegoni quello che spiega appunto il blip come sono tornati i vari personaggi dal dal post schiocco di dita e questo spiegone che spiega misterio nonostante gli spiegoni non sono quasi mai bene accetti qua sono sono tutto sommato carini misterio utilizza semplicemente la tecnologia che usa normalmente nel fumetto e voi mi direte va bene ma il fumetto è una cosa il film è un'altra una cosa che funziona nel fumetto necessariamente non funziona nel film va benissimo ma noi stiamo parlando di una tecnologia che abbiamo già visto in azione nei film qua vediamo un upgrade di un qualcosa che avevamo già visto stiamo parlando di un universo narrativo in cui porca puttana viaggiano nel reame quantico che è qualcosa che viene a malapena cioè che solo adesso si va oltre la teorizzazione e misericordia ma come potete lamentarvi del fatto che lui utilizzi della tecnologia di tra virgolette droni e ologrammi di quelli forti cioè di quelli belli potenti che gli freghi anche le telecamere e freghi tutti cioè nel senso non c'è nulla di particolarmente cioè nel senso io faccio sempre il discorso del no prize che è quello che faceva Stan Lee quando i fan trovavano delle incongruenze nei fumetti dicevano ah sì va bene trova tu la spiegazione e quella spiegazione per quanto strampalata sia per noi va bene che era un po' pararsi il culo però va bene tutto sommato cioè nel senso non capisco questo strapparsi le vesti per misterio che io l'ho trovato un cattivo motivato cattivo ben gestito veramente veramente bello mi è piaciuto molto il fatto che a differenza del fumetto lui lavori con una crew piuttosto che farsi tutto da solo mi è piaciuto anche che in questa crew ci siano un sacco di ex dipendenti scontenti di Stark tra cui quello che avevamo visto in Iron Man 1 che poi me lo sono andato a rivedere veramente quello porca troia cosa sono andati a ripescare ovviamente i nemici non potevano essere gli elementali perché porca troia regola numero uno non puoi avere come villain vero e proprio dei pupazzoni in CGI che non parlano non hanno caratteristiche fisiche cioè sono dei blob era palese che non sarebbero stati quelli e che quello non sarebbe stato il vero Molten che quello non sarebbe stato Heidrowman per quanto venga citata una teoria sul fatto che lui sia un mozzo di nome Morris Bench era palese che il villain sarebbe stato misterio ed era palese che sarebbe si sarebbe avrebbe agito così allora andiamo adesso a parlare un pochettino no prima ancora di parlare degli spoiler parliamo della figura di Happy la figura di Happy a me è piaciuta tantissimo perché è la prima volta che vediamo il personaggio di Happy Hogan che con Spider-Man non c'entra nulla in un ruolo di mentore suo malgrado cioè lui non ha voluto mai fare il mentore di Spider-Man lui era un amico di Iron Man ma che si è trovato tra virgolette suo malgrado a stare dietro a quello che è il nuovo eroe e mi piace molto la dinamica come mi piace molto il fatto che a poco a poco Peter accetti l'eredità di di Tony ed è bellissimo vedere la scena come lui agisca con la realtà virtuale esattamente come Tony lo faceva nei primi film di Iron Man mi è piaciuto molto questo rimando questione spoiler andiamo a dire ah no prima ancora degli spoiler devo dire tutte le cose mi vengono in mente a flusso le scene di lotta nel mondo surreale di misterio sono bellissime io tra l'altro conosco anche un ragazzo italianissimo che ha fatto parte del cast che ad esempio ha ha costruito quelle belle scene in quella realtà virtuale con 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 tutto quello che si vede spoiler e mi è piaciuto veramente veramente tanto onore al merito e adesso sì andiamo negli spoiler allora io purtroppo gli spoiler grossi me li sono presi in faccia malamente perché perché ho fatto la cazzata di andare a cercare informazioni su l'ultimo numero di The Walking Dead che era uscito poco prima in canali americani 4chan cose del genere porca troia se non ti mettono l'immagine che non dovevi vedere proprio in faccia come abbiamo detto spoiler J. Jonah Jameson ma che bello vederlo ma che bello J.K. Simmons un J.K. Simmons al naturale senza la parruccona da Jameson anche perché deve distanziarsi dal Jameson che abbiamo conosciuto nell'universo di Raimi perché l'attore è lo stesso però devono far capire che sono due cose diverse e che ha anche un ruolo diverso nel senso che non è il direttore di un quotidiano affermato come il Daily Bugle ma è lo speaker di un sito controverso di bufalari complottari che è Daily Bugle punto net che potremmo non lo so paragonare a un bio blu al buon messora che faceva parte dei 5 stelle poi è stato cacciato quando ha preso per il culo non mi ricordo più chi che comunque si è sempre nutrito di questa di questa informazione al limite del credibile poco credibile e questo Jameson è questo che proprio coglie a fagiolo l'imbeccata di Quentin Beck e rivela che Peter Parker è Spider-Man come citando appunto Peter allora non so come verrà gestita la cosa da qui in avanti probabilmente ci porterà di nuovo a uno Spider-Man diverso da quello che abbiamo conosciuto ma tutto sommato in qualche modo legato alla classicità riuscirà a fregare tutti dicendo che l'identità sua è diversa probabilmente no riuscirà a convivere in qualche maniera chi lo sa fatto sa che sono delle premesse interessanti per quello che sarà il futuro del personaggio anche perché c'è tutto un cast di persone di personaggi legati a lui che bisogna capire come agiranno Zia May Marisa Tomei c'è poco da dire francamente qua May viene usata come comic relief il ruolo di padre putativo madre putativa in questo caso ce l'ha più Happy Hogan quindi diciamo che May è rilegata più a un ruolo di spalla comica cos'altro dire il discorso Nick Fury e Maria Hill sono Skrull allora c'erano delle abisaglie che lasciavano capire che non era il Nick Fury che conosciamo oltre al fatto di farsi fottere ma il fatto che reagiscano quasi come si fosse trattata di L'Esa Maestà quando Peter cita Captain Marvel tipo non 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 nominarla in vano adesso non dice proprio così però insomma ti fa capire che sono rimasti un attimo c'è da capire ora Fury nello spazio che ci sta a fare quello dello snap era Fury io penso di sì quello che Fury e Maria Hill che sono spariti credo fossero i veri Fury e la vera Maria Hill però chi lo sa forse che sì forse che no Sarah Ferguson non lo so che dire a me è piaciuto veramente tanto non ai livelli di Spider-Man come si dice Into the Spider-Verse che ve ne parlerò ma veramente mi è piaciuto tanto perché appunto la capacità è stata quella di riproporci lo Spider-Man classico in situazioni diverse se ci pensate sono due film in cui non vediamo tranne che per la scena finale Peter svolazzare per i grattacieli cioè tranne appunto alla fine dove effettivamente svolazza per i grattacieli l'abbiamo visto prima combattere nel Queens quello che è il suo posto di origine e poi totalmente portato da tutt'altra parte Venezia Londra Praga si arriverà poi al costruire lo Spider-Man forse un po' più vicino alla all'immagine che abbiamo ma tutto sommato va bene anche così nel senso che quello che stiamo vedendo è uno Spider-Man diverso ma è lui è lui in tutto e per tutto cose diciamo un pochettino cringe il discorso di Edith il viaggio in Pullman con Edith insomma abbastanza un po' così andrebbe forse spiegato un pelo meglio il discorso del blip perché se tutti quelli che dopo lo schiocco sono spariti ritornano nel posto in cui erano prima io mi immagino i poveri Cristi che erano su un elicottero che fine fanno probabilmente poi sono piccole sottigliezze tutto sommato cose così il costume da scimmia notturna è una roba sgalfa ma doveva essere sgalfa il costume tutto sommato quello rosso e nero che usa alla fine mi piace se non fosse per le maniche nere con le dita rosse che vanno a richiamare un pochettino alcuni altri stili di costume di Spider-Man penso a quello di Miles Morales quello di Ben Reilly il Superior però a me sembra lo Spider-Man che si è messo gli scaldini per il freddo non mi piace per niente quell'aspetto lì per il resto tutto sommato è un bel costume non me ne frega niente che ci sia tutto il discorso tecnologico perché poi alla fine quello che vedo svolazzare è il Peter che conosco cioè alla fine che se lo cuccia lui sì ma non è quello che mi interessa vedere in Spider-Man mi interessa vedere Spider-Man quindi promossissimo per adesso è tutto tante cari cose ciao gari ciao gari ciao gari ciao